Ciao a tutti e ben ritrovati, finalmente siamo in inverno e nella nostra cucina invernale per iniziare vi propongo oggi un buonissimo piatto, un rostì di patate con formaggio provola. Le patate sono pronte, sono state tutte tagliate finemente, adesso noi mettiamo rosmarino e un po' di sale per insaporirle. Adesso che l'impasto di patate è pronto, noi prendiamo un cerchietto, un copapasta e andremo a fare delle formine. Mettiamo le patate, schiacciamo. E adesso i rostì sono pronti per essere cotti. Un filino di olio e iniziamo a inserire i rostì. Adesso sono passati dieci minuti, i rostì sono pronti e li gireremo. Noi adesso faremo l'ultimo passaggio. Adesso siamo pronti, possiamo impiattare. Il piatto è pronto. Buon appetito!